Grazie. Signor Maglitz è il fondatore di Atlantis Consulting, sede a Salonico, cofondatore dello Scopelos Diving Center, ha un'esperienza trentennale nel campo dei servizi di consulenza, ha partecipato alla realizzazione di numerosi progetti nazionali ed europei incentrati sulla conservazione, tutela e promozione del patrimonio culturale. Io l'ho conosciuto signor Maglitz a Catania alcuni anni fa, allora ha presentato questo suo progetto, questa opera, le tecnologie nuove erano allora davvero un grande campo. Vi ringrazio molto dell'invito, l'immagine che vedete è da un relitto del periodo classico nella zona di Peristera, è visitabile da sub. Come sapete lo sviluppo è importante per le isole e le zone costiere, ogni comunità locale vuole avere un vantaggio competitivo. Nella zona del Mediterraneo orientale, lo sviluppo si basa al turismo. Il turismo culturale subacqueo è importante, un turismo tematico. si basa in iniziative bottom-up e riguarda l'immersione libera o con scuba in relitti moderni o antichi o anche abitazioni preistoriche sotto acqua. L'industria del turismo subacqueo è importante. perché è cominciata tardi, fino al 2005 era vietato fare le immersioni archeologiche. Adesso abbiamo più di 300 centri dive in tutta la Grecia. Abbiamo un fondale marino molto ricco, ancora non sfruttato e non valorizzato come doveva essere, ed è rimasto quasi intatto a causa del devietto precedente. Quando parliamo del deposito culturale che non è accessibile a tutti, parliamo di reliti contemporanei fino a 50 anni, altri che superano i 50 anni e si caratterizzano monumenti. In Grecia abbiamo 12 luoghi subacqueo visitabili archeologici, ad Alonisos. Altri quattro sono aperti ad Alonisos, ma è complicata l'immersione. A fine luglio apriranno altri, al Golfo di Pagastico, in Amaliada. I reliti sono capsule di tempo, cioè si crea una flora e una fauna che i biologi marini conoscono bene e considerano molto preziosa. Vengono studiati da loro, che danno molto importanti informazioni sulla flora. si trovano in posti più isolati e perciò aiuta molto al turismo. Però il fondale morino non è accessibile a tutti. Ci sono tanti reliti ai quali è vietato accedere. i sub sono pochi, meno di mezzo per cento. Alcuni luoghi sono più facili da accedere, ma la maggior parte no. perciò la tecnologia è utile, sia per accedere più facilmente, per promuovere questa ricchezza subacquea. sensibilizziamo in questo modo sui modi di avvicinamento di questi luoghi di ricchezza storica e come proteggere questi luoghi, soprattutto per le giovani generazioni. ci interessa la nuova tecnologia perché ci aiuta per proteggere questi luoghi. Li registra bene e possiamo osservare qualsiasi distruzione che può essere causata alla pesca, pesca illegale, o da persone. Anche se negli ultimi anni, da quando la comunità locale ha capito come sono importanti queste ricchezze sottomarine, non ci sono furti. ma la tecnologia ci aiuta anche per registrare danni causati dalle modifiche climatiche, dai problemi climatici. Ma ci può aiutare con realtà virtuale, creando immagine o realtà aumentata. Non dimentichiamo che la tecnologia davvero sensibilizza i cittadini. quando il cittadino capisce l'importanza del patrimonio culturale, allora lo vuole proteggere. Ecco, proteggendola vogliono capirla meglio. Il famoso Heritage Cycle. Questo diventa ancora più importante per i monumenti sotto acqua e che la tecnologia li rende più accessibili. Noi abbiamo cominciato con questo progetto Anno Magneto Nisi, partito dal 2006, un'iniziativa Bottom Up, riguardava l'isola di Alloniso e di Scopelo. Abbiamo reso visitabili i relitti antichi della zona, il relitto di Peristera ad Alloniso, facilmente accessibile, con tanta vita marina. Vedete le murene all'interno delle anfore. È davvero piacevole vedere la vita marina lì sotto. e la visitabilità non disturba la vita marina. Il relitto è del 425 avanti Cristo. Nella zona della Magnesia abbiamo sette luoghi archeologici sott'acqua che cerchiamo di rendere visitabili. sono dichiarati visitabili, ma non sono ancora realmente visitabili. I tre di loro saranno operativi alla fine del mese e gli altri quattro cominciano a essere funzionali già. per esempio la fotografia a destra è cento anni più antica anche da quello di Peristera che abbiamo visto prima. È importante avere tanti relitti e non solo uno perché dobbiamo coprire un arco temporale più o meno di una settimana perché questa è la durata delle visite dei SUP. All'inizio del 2006 hanno partecipato 34 enti tra quelli anche l'organismo nazionale del turismo. Gli sforzi continuano fino ad adesso. Si basa su una serie di tentativi a livello europeo per finanziamenti e cofinanziamenti di progetti mediterranei, progetti di ricerca, progetti Horizon. Ovviamente si comincia da un punto e noi abbiamo cominciato, visto che abbiamo anche questa vicinanza con l'Italia, abbiamo cominciato con un piccolo progetto e mi riferisco al prodotto turistico perché se vuoi proteggere il patrimonio culturale su Bacque deve abbinare anche uno sviluppo economico e nuovi posti di lavoro alle comunità locale. Allora, abbiamo creato questi percorsi turistici e piano piano abbiamo creato una serie di tecnologie che hanno tante forme. Qua in alto vedete una realtà virtuale tramite una piattaforma con Mel Dive. Ci sono anche le virtual reality. La seconda fotografia è un accesso con un dispositivo. Per esempio, a Baia, in Italia, si possono vedere da vicino i luoghi su Bacque. Per esempio, anche la terza fotografia vedete in 3D tutti i reperti da questi luoghi archeologici. Qua vedete fotografie da centri di aggiornamento e di sensibilità del pubblico che abbiamo sia in Grecia, abbiamo creato anche in Italia, in Croazia, anche a Montenegro, in Albania. Per noi sono molto importanti questi centri perché danno tante informazioni sia per i GSUB anche per i GSUB che hanno l'opportunità di avere informazioni riguardo questo patrimonio culturale. Abbiamo avuto 2.200 visitatori. Qua vedete anche altre immagini da altri centri digitali da Meliapoli, da Lossilo, questo in Italia, in Croazia, il sistema dell'immersione è aumentata. Vedete qua la fotografia, il SUB sta davanti a un mosaico a Baia in Italia, a Campi Flegrei. la piattaforma è sempre rinnovabile, le formazioni della piattaforma sono sempre aggiornate. Cerchiamo di rendere, perché i dati sono molto pesanti, cerchiamo di renderla più agibile. Ci sono tante informazioni. Abbiamo sviluppato anche altre applicazioni digitali come questo Deplian, Deplian di realtà aumentata. si apre il Deplian, avvicinando il cellulare escono in 3D le foto del in 3D la rappresentazione del relito o usando questi card board Google occhiali che mettendo il proprio cellulare e con pochi soldi può avere un apparecchio tipo Oculus. Abbiamo creato anche un Serious Game. Dive in the Past il gioco ha più di 65.000 download in ambiente Android ed è gratuito, è un gioco che si rivolge agli adolescenti ma a tutti noi perché presenta davvero il patrimonio culturale subacqueo, promuove la visibilità ad Aloniso e ad altre zone e sensibilizza il pubblico. cerchiamo di creare anche con Mare Box mostre che parlano non solo dei temi marini ma anche anche dei profughi il mare è sempre stato un ponte le persone Panda sempre viaggiavano naufragavano i profughi purtroppo erano una presenza sempre abbiamo creato varie applicazioni a sinistra il relito di Peristera del 4.025 a.C. per questo sono visitabili sul post abbiamo creato una nuova tecnologia che sarà applicata a Peristera di Aloniso si posizionano delle camere intorno al relito si ricostituisce l'immagine e si può fare una immersione virtuale in un ambiente vivo sarebbe un'immersione assunta come la chiamiamo è un progetto nuovo che ancora non è stato completato ma sta per essere completato qualcuno potrà andare con la barca e con un dispositivo potrà vedere dal vivo da sotto dalla barca avrà la possibilità di avvicinarsi al relito ci sono zone dell'ionio che sarebbe ideale ad applicare questa tecnologia questa settimana la settimana prossima avremo l'angolo digitale all'isola di Scopelos nel relito con il nome cristoforo avremo un ambiente di realtà virtuale cerchiamo di fare tutto quello che possiamo vedremo verso questa direzione in queste foto vedete nella zona di di Pavlopetria della Fonisos mettiamo anche delle insegne delle tabelle per aiutare i visitatori a seguire un percorso ed avere informazioni per la zona vi faccio vedere anche per un minuto un piccolo video molto piccolo vedete l'applicazione realità virtuale apparecchi occhiolos si troviamo a Scopelo si mettono gli occhiali si prepara per l'immersione l'esperienza sembra davvero del tutto vera togliendo questo apparecchio di realtà virtuale uno ha l'impressione che appena uscito dal mare toglie la maschera del suo tuffo vero qua per esempio si avvicina al relito qua sta avvicinando al ponte si muove dove vuole e vedete avvicinando il relito avvicinando si vedete meglio si chiarisce l'immagine questa è l'ultima dispositiva del powerpoint vendito vorrei solamente dire che il patrimonio culturale subacque è importante le leggi non bastano l'Italia ce l'ha insegnato se vogliamo proteggere questo patrimonio ci vuole uno sviluppo locale non ha un impatto ambientale importante è sostenibile da benefici diretti alla comunità locale è è facile da finanziare tramite progetti di sviluppo all'inizio ha bisogno di bottom up iniziative però con le collaborazioni che del ministero della cultura e con altri enti si possono raggiungere ottimi risultati vi ringrazio tanto siamo noi che ringraziamo dottor Maglis io ho fatto 5 immersioni in vita mia è un'esperienza magica l'immersione è un'esperienza magica ma non ho mai visitato un sito archeologico sott'acqua deve essere un'esperienza unica spero di collaborare con voi anche se nelle isole Ionie sono un po' invidioso vedere queste opere in acque diverse abbiamo già fatto delle opere con la regione delle isole Ionie e lo faremo anche di nuovo proprio proprio per promuovere la cultura il patrimonio culturale subacqueo che personalmente mi piace anche tanto lavorare su questi progetti è importante creare un centro di aggiornamento dei visitatori sono musei contemporanei sono musei moderni digitali senza avere reperti reali nelle isole Ionie che avete un fondale marino importante avete il sito Perseus in Grecia il problema è che i siti non sono registrati e non sono studiati in Grecia ci sono 350 siti archeologici subacquei 80 di quelli sono studiati in Finlandia sono 2.000 in Danimarca 3.000 in realtà in Grecia sono molto di più di quelli che vi ho nominato noi sull'isola di Scopelos sono 30 solo intorno all'isola solamente 30 figuratevi tutta la Grecia devono essere più di 1.000 ma non sono stati documentati questo è il questo è il punto debole e questo è il primo passo da fare a livello regionale prima conoscere il patrimonio e ci vogliono anni per raggiungere questo obiettivo stiamo facendo i primi passi ci vogliono archeologi subacquei non ci sono tanti nella zona dell'Ionio c'è una ricerca dell'Università del Peloponnesio nella costa dell'Epiro ci sono zone archeologiche io vengo come turista faccio le immersioni agli dacchi e ai dacchi e le vedo ovunque ci sono non si discute ma prima deve cominciare una ricerca archeologica subacquea per esempio come a Perseus che è un sottomarino che si trova a Cefalonia ma ci sono anche relativi più moderni più recenti grazie tanto di nuovo grazie 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 grazie